io scelgo il tizio che però non mi sceglie ok e si va allora dammi un altro secondo mentre carica l'introduzione per prendermi una meritata birra e stasera voglio bere una birra ah che cazzo ce l'avevo l'insalata colpata un po giallo è diventata un po giallo forse oggi era l'ultimo giorno che mi potevo permettere di mangiarla ma non l'ho vista e ho mangiato le lenticchie ah cazzo la neve con le calamite esatto rottura del cazzo va bene esploriamo acqua c'è la porta la porta l'avevamo aperta si la devi spingere la devi spingere te esatto la devi tirare esatto io passo e fin qui ci siamo adesso c'era tipo un'altalena qua cioè io questa la posso attirare io la spingio e te la tiri e qua c'è un'altra roba e non mi sa che tanto dovevamo andare su vedi lassù c'è anche un gancetto qui mi sa che finivo nel baratro quello che conta quindi vedi le sbarre blu del supporto ah ok quello che conta è i colori del frame o comunque dell'aggeggio che stiamo usando adesso siccome è blu io che ho una calamita blu respingo e te pingo quindi qui dovevamo fa ti devo mandarla su la prova o me la respingi fino alla sua e vedo se ci arrivo o se no lo devo ok e tu hai messo me la tiri e io faccio lo stesso aspetta tu aspetta la devi salire mentre tondo la se no non lo devo ok e questa è la pace poi qui c'è il solito qua c'è un gancetto ok qua ce n'è un altro però non so dove si va non so che quello mi pare che non aggancia no quella è la calamita rossa cioè è una roba rossa quindi è una cetta conficcata in legno quindi te la giri ah io la posso girare no però mi sa che la devi a te ok no però mi sa che dovevamo fa il contrario io mi aggrappavo te la tiravi e il gancetto arrivava della attira punti eh no sono troppo lontano come so cioè l'ho ganciata me lo fa il flusso blu però non fa l'idea a me che gli fa però forse basta dove dovevamo arrivare capimolo l'uomo arriva dall'altra parte eh secondo me doveva arrivare dall'altra parte sì ma te riesci a agganciarla dai che io l'ho spostata più in là no perché se schiaccio R1 me me no R2 per agganciare a calamitaggio no così no è troppo lontano non mi dà R2 ecco adesso non mi dà ecco ecco allora che l'hai grappa eh non mi la fa troppo lontano eh tocca farlo prima per la stessa poi disposto ah ok ok sono sgrappato no ok che fai l'epoca sei sì ok tutto cuscista a livello 4QD ah no quello là non è un coso tocca te tiri ok io monto su e te le dovresti le spingi adesso da lì e così la tengo giù e te intanto passo ok sì è tutto così pensa che figata questa è sa che è anche uno un po' lunghino parco d'inno ah qui dovemmo segare quindi prima io e spingi ah no aspetta io potrei venire una volta per uno dai dai una volta te una volta io una volta te una volta te una volta te una volta io ma se sta segando sta cosa sì 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 no fr .. tu che soniscita chiedendo l'acqua ghiacciata a pique bene adesso che è quella merda la qualcosa si può fare come fatto? ah io lo so ah che poi attiva ok la calamità pura da qui salimo ah no forse adesso le c'è da questa così ce le spingere usa quella del colore opposto del colore tuo ah ok e fai il dash dopo sul cibo ok oh si qui scena in dentro ma per scivolare cosa? cioè cosa vuol dire? ma niente ci servirà dopo intanto ci avrà fatto vedere con la segura ci saranno persi dove dovremo scivolare ci inseguirà qualcosa dovremo fare in fretta allora io tiro fuori questo diavolerio qui no dietro non c'è il blu ah il blu sta là io tiro quello ok te dovresti montare lì in cima vai verrà sparato non so dove e le fiondi vai fiondati vai no vai vai uuuuuh aspetta io posso piegare aspetta io posso piegare questo ti monti su sta roba che ti sto mandando io bravo tiratela monta su no no così me lo spingi no dai mi sa che tanto ci arriva al suo no beh salivo qui fleng ah come si rimane attaccati ok la devo tenere premuto si proprio da lì mi passo un granaggio adesso usiamo il colore nel posto ti spingi e sciagarsi un altro che in primo usiamo quello per montare su lì lì vai ah no 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 salta risalta 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 si ok 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 e qui qui si torcede ah se passa ok quello questo se ci arrivi io non ci arrivo si perché a me mi attira aspetta vediamo se posso fare qualcosa qua si ok aspetta che adesso tramando no ah no la ribalti la gambi del colore bravo esponimi il rosso bravo dai colore giusto ok ok forse forse vai lascia No, si, pensiamo, passa, qui qua, ok, va bene, va bene così, va bene così, girala così me la esponi in modo che me faccio, per andare in alto, ancora un po', a qualche grado ancora, però come c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, non c'è lì, ok, adesso te la giro, no, no, la fantasia, va da sola, salti in avanti, siccome è inclinata dei 30 gradi, salti in avanti, schiacci e duke spara dei 30 gradi lì, ok, ci sono, questo lo tiro giù, no, quello devi tirare, no, a me non me lo tiro, lo spegniamo, ecco, adesso qui, che cazzo c'è, io non vedo punti, se cademmo del sotto tocca al fades tutto, me lo so, ah, forse se va, non se va, non lo so, ma io mi sono appena incastrato il glitch, mortale, no, zitto, zitto, ne so, liberato, eh, boh, mi verrebbe, ah, c'è, 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 rampino la, c'è il rampino, c'è il rampino, vai ai giro le rampi, poi c'è il rain, c'è un anche lo lampino e poi ti devi attaccare nel colore giusto ok qui vado su io ti fai un wall jump qui invece vai su te, mi vado a nessun movimento qui c'è un'altra roba, io la fai te lo girirà, la scada di chi va amakersda, gira dove la tu non riesci a traere quello lassù? c'è un altro ponte no? che però è terribile e così lo stai attirando stai spingono, non ho capito no, lo stai spingendo questo sta così, io ci posso salire allora saleci, saleci saleci è troppo da qui lo andiamo esatto, ma quello lo devi fare ah ok ci arrivi da lui ah si, non moltissimo, bisogna spingere questo no, non me lo pio cioè quello potrei attirarlo, però questo come lo spingiamo, prima bisogna spingere e fissarlo quant'è il cabello muoio ah, a te c'è il blu, è quello là, lo respingi aspetta, aspetta, lascialo, lascialo un attimo ah ok, non mi ci senta pensavo di attaccarmi eeeh no, forse sei in salto, gliela fai, attaccateci se salti e ti butti nel vuoto e tieni il flusso attaccato, provare no, no, quando è così, casco di te l'acqua, ci ho provato il primo vuoi una calamita pura e una di citacco, oppure ma sei sicuro che non riesci a ma tanto poi è il blu che vuoi ah, è il blu, ok ma da lì non puoi saltare da qualche altra parte? c'è, non c'è un altro sto guardando non lo parlo qui mi casco in te l'acqua perché il problema è che se te monti su te il coso non puoi non puoi calamita perché se sei sopra non ti calamita, è giusto? esatto ah, aspetta un attimo no, però tu puoi attirarlo da qualche punto ci devi essere te qualissimo eh sì, perché se no per l'altro va per la nascita per la nascita no, se te no, non devi tirarlo da qui, devi tirarlo da là vada all'altra parte del ponte ce l'ho provato da qui, ecco, da qui te lo tira tiralo se io lo lascio te lo eh, aspetta, adesso però ci ho passato io c'è te lo tieni così adesso agganci per te da là così indirizzi pure quello posto ok, mi sa che adesso se so aggiungerlo a posto ce l'ho passata scusa, la casina di marza fame la casina di marza magnetica ecco, volevi fare lo skating ecco te qua ti mancava lo skating oh, guarda Cody oh, ho fatto il tuo bel soleno e non vedevo il cazzo no, ho trovato un baglione una giacca aperta si, ha messo il il piumino d'oca sbassa un po' che sento un po' di ritorno si, 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 si dico, vieni che? dove andai? riusci al piumino ok, andiamo adesso con questo nuovo piumino che skill ci da al piumino con questo outfit va a fare un cazzo per ora e niente ah, dovemo, ah, eccolo qua dovemo pattinare, c'è dove i pattini ah, c'è sprint ok mi sembra stato un pro hockey in una vita precedente, certo? ah, è come cosa? come Tony Hawk che poi fa le acrobazie, no? se salti fa mega vado vado dove gli ho andato a farlo in una grossa ok, io sono arrivato al postone io c'è una grotta qua ma sei boccato dentro te? si a forza di acrobazie pirollettanti, sprintanti per me è inquadrato che va più veloce è un boss finale? no eh? no ti piacerebbe eh? tagliare sta parte dei magneti così ma mi sa di no tra l'altro prima che ti arrivassi volevo dare un'occhiata se trovavo da scaricare il Golden Idol a spaziozione però te sei palesato e ho lasciato un po' quant'è cosa scaricherà il salorico? oh, quanto c'è in carica? c'è un librello oh il villaggio degli elfi cos'è? è Santas Santas Dylan eccolo ecco utilizzare i tuoi magneti magneti non sceglieranno l'occhio esatto ma le belli in questa città possono rompere l'occhio ora rompere l'occhio e ottenere il tuo valore wow rompere l'occhio e ottenere il tuo valore devo fare una piega quindi dovremmo arrivare là su ma come ci arriviamo? ci arriviamo chiaro piano un passo alla volta qua eccolo là primo magneti blu ti tiri ah ok dai sale un po' ah non me lo ritira anche la testa però tira tira gliela fai? vai gliela fai arrivarci? no te lo devi tira su io poi mi devo proiettare vediamo ah c'ha la calamita sotto ok vado però lascio eh lo proiettato aspetta vado come c'ha più tardi si adesso dice devi sali sopra e io adesso lo ritiro su ah lo devi tira su io devo fare wall jump mannaggia al papa vai tira su pianino no 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 continua a tira su però piano con gradualità ecco 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 c'è un'ora La campanella non rie... Mi sa che devi attirare la ca... Ah, e come fuori va su io? Cioè, non ci arriverò mai? Questo adesso arriverà? Ah, piano piano quando torna in vita sti virelli Aspetta che se ha visto che si è liberato qualcosa Il porto dove morire dal trasso porto Però io non so dove è Eh, mi sa che quello perché c'era solo il blu E quindi io riesco a tirarlo in basso E quindi dovrei aprirlo io al porto Però non so dove diavolo si è aperto Forse va? Eccolo Ah va Boom Next Altra campanella E' sempre più grosso lo scenaio Sembra giusto Eh, c'è un espello questo gioco, eh C'è una rottaia Eh, ma da adesso è la qua Non se la... Non sono tante Dove sei? Eh, ho preso un po' di rottaie però Ah, se lo in free roaming esplorativo Eh, non se ne... C'è la campana è là Però non so come ci si arriva La vedo che c'è una roba magnetica E' tanto dove è andante la campana Stai solo indietro? No Sto a tentare di arrivare la campana in qualche modo Qua c'è un coso? Ah, qua c'è un... Oh, i'm gonna get you Ah, ah Se ha denarato da qua C'è un coso? C'è un coso? Oh, wonder if we can use that crane? C'è un coso? C'è un coso? C'è lì? Stiamo C'è un coso? C'è un coso? Si è tutto emotivo alle pallate Credo non serve a niente No, io andrei a... Cazzo Cazzo Ma a me piace la calamita Ah, ok, così la spingo Forse questa la devi più a te Ah, sto giro, mi sa che lo devi far fatigliamente Aspetta, aspetta, aspetta Sì, gira, gira ancora un po' di più No, aspetta, io adesso non ci arrivo Mi sa che... Non c'è lì? No Mi sa che io... La, lascialo È rimasto qui È rimasto così Forse era aspetta... Quei re in dettriva? No Scusa, invece questi simbolini Quei simbolini straini Le quadratosi Cosa indicherebbero? Altre campane Ah, sono le campane in lontananza Sono le campane in lontananza Eh, adesso non ci arriviamo Esploriamo l'antananza Sì Icicle Throne Ho trovato un minigame Nel frattempo No, aspetta, questo forse si tira Per ria... Sei sicuro che questo non si tira? È lo stesso di prima È quello che ho girato io No, ok Gira, gira, ok Però sei sicuro che non si tira? Perché mi pare tipo una leva Che si possa Ah, no È una maniglia Aspetta Aspetta però Vai un po' lì Vai lì Dici qual è andato Vai vai Walljump Walljump Eccolo va Ok, via E poi non c'è più un cazzo qua Ma non c'è più un cazzo Aspetta, però me lo devi girare di là Aspetta, adesso salto qui Giramelo di là Ah, devo Prima che te ti scivolò più giù Eh, esatto Prima che scivolo giù Che sarà un mega trauma Aspetta però Ok, lascialo a me Uno No Due Tre Va bello Va tutto in alto però Perché sennò Eh, più in là Qua non riesco a andarci Vai, rifare un altro salto Vai Ok, gira Vai Vale Ottimo Ok, ma adesso qui dove devo andare Adesso ti grazie C'è una calamita lì Rossa Che però non so dovevi sparare Ti spara in alto No no, devi andare più in alto Arrivi al campanile Che forza da lì Fa vedere un po' Lunga eh Fare un po' Non ci posso provarla No Aspetta Ma quella Aspetta, aspetta Ti sposto io Ti risposto Ah, l'ha spostata Ecco, bravissima Vai adesso Ok Oh, per favore Stai adesso lì Adesso questa te la devi fare Questa campana qua È sicuro Come si fa? Sì, ma come si fa? Ti rimolli, ti rimolli E fai sbatacchiare L'apprezzo Lui Spostate pure te Un po' In modo che ti ride più O molli di più Cazzo Perché te proprio Anche non vuole o cascare Esatto No, non cascare No, ma non Ci sei quasi Lascia Così Ah, guarda un po' Che belle le piadine Uh, bello I slittini La rampa da scopo Ma con gli slittini Sa che Adesso devo calare giù Sì, perché calare giù Potremmo andare Alla prossima Aspetta che non ho capito Dove si passa Qua c'è un garage No Dove si passa? Devi trovare Va intanto Verso i cosi Verso I simbolini quadratosi Ecco Ok E poi Ci dovrebbe essere Un certo punto Dei rail Eccoli Piano piano ti avvicinano Ok Di qua Si va di qua Immagina Oh, guarda che bel martingeio Eh, adesso qua Da qua Eh, non so Dove sei Ah, ok Allora, come ci arrivo laggiù? Ah, immagino che l'acqua Si, patina Ok No, pensavo che era Quindi quella gira Così Vai qua E si spiglia io De là Ah, te te poi No, no, aspetta Vedi, sotto c'è la blu Te te devi attaccare lì Alla rossa Perché te c'è la rossa Ok Ok Adesso devo Scendete Te la continui a far girare Io faccio tipo Criccieto Te non la puoi far girare Pide così? Si, si Posso farla girare tutta Vai, farla girare tutta Dai Perché la devo far girare? Te la tengo ferma No Perché devo arrivare Non puoi arrivare lassù? No Devo arrivare dove c'è il blu Mi devi rimettere il blu Sotto il culo Ah, c'è il blu Ok Giro, eh Giro, giro Pensavo che non c'era il blu Vai, vai Ancora un po' Viene aperto Ok Basta Ok Adesso io da qua Faccio lo stesso lavoro per te Sganciati Ok, aspetta Staccati Ok Tira me su Adesso staccati da lì Oh, aspetta Fermati in piano Ok Vai, gira Vai, gira Gira, 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 gira Gira, gira Troppo forte, troppo forte, troppo forte Nooo Cric Troppo forte, troppo forte, troppo forte, troppo fa Ok, ok Ok Gira un altro pochettino Basta Basta Ok 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 Ah, la sua c'è l'antarcaramita roscia Mi sa che quella la puoi attirare Aspetta, io devo montare sull'ascensore C'è l'antarcaramita roscia Devi tirare Ok Vai, sbattacchia Ah, questa è la campana? Sbattacchi Sì Lascia Ok Ah, la ruota panoramica di ghiaccio Questo pallotto qua Con i pesci dentro Perché c'è i pesci? Se avevano scongelato i pesci Molto bene Lo so Aspetta, adesso io potrei tornare giù da qua Però ce n'era un altro del simbolo della campana Uuuu 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 Ma è che ci devo fare da panoramiche No? Che culo Immagino anch'io Uuuu 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 Ero io che stava facendo girare In maniera vorticosa La giostra Io come sai che serve solo per fare scena E forse è anche la ruota panoramica Sarebbe per fare scena Sarebbe per far divertire con gli sfigati Ah, dici che non ci potevamo agganciare sulla ruota No, non ci potevamo agganciare sulla ruota Ok E l'altra campana o il diavolo? Tutta scema E niente, andiamo verso il prossimo simbolino magico Che io non vedo Che non vedo Ah, ecco Sì, e me Sì, e me Non mi saluta da là? No, no, viene giù da qui No, c'è un rail Vai a destra A destra, a destra Lì no, lì, ecco no, dietro la roccia ok ah, dici che quello lì riusciva a prenderlo? no, butta te, usa il santo e lo troppo male no, non vedo una strada da qui ah, l'è stata un po' sta giù eh, infatti ti ho detto di non usare va bene, va bene, scende lì ecco, vai, verso la torre no, no, sì, no, là la, no, ah sì no, gira la agganciati ecco una bella diavolo qui che possiamo usare questa è una mega catapulta una mega catapulta che c'hai? per proiettarci verso... ah, ok tira le calamite e te tiri quello e io poi non lo so no, è troppo lontano tira la aspetta ah, dopo un po' esplode ste calamite molto bene eh, ma non posso scegliere io si, puoi scegliere dove tirarla si, però non quanto distante cioè, posso scegliere se tiratela in basso o in alto tira la a destra o la puoi metterla non posso scegliere ah, a destra la posso solamente scegliere cioè, se sbregano esplodono no, 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 lì nella parete di ghiaccio sulla destra ecco lì perfetto adesso ehm vedi, quelle scivolano e due dopo ecco, e mi saltano pure i neri vai, fammi risalire qui da una mano, spostati anche verso sinistra per più devo arrivare a sinistra ah, ok oh, cazzo, troppo in su no, no, va bene ah, fai io a sinistra sì, lì, arriva a sinistra sì, lì, arriva a sinistra ah, fai l'ultima no, porco diazzo ho cascato il tutto giro va bene, va bene non è difficile vai, ancora lì in su forza, madonna non è proprio ci mi sono perché c'è un lag di dio almeno l'abbiamo finito più alto possibile ancora più alto ah, ok e uno è stato vabbè da qui aspetta aspetta crescito madonna forse no, no, credevi salita da una borsa adesso adesso la parete è tutta a sinistra adesso mi ho fatto la parete di destra adesso la devi fare su quella parete lì fino a arriva là ma mamma mia speriamo che appena moro mi fai qui un po' più alto un po' più alto lì no, più a destra eh, che sta a fare ha i comandi invertiti vai ancora lì c'è spostata a sinistra ok forse se siamo no mi immagino che devi fare pure questa yes perco lindo che da cazzo ci hanno pensato ah, forse mi ha scivolato troppo giù va bene va bene, non ce so ok eh, aveva finite le pareti sì sì ci so ci so qui c'è la basson rail e qua la campana la campana è mia sperando che sia l'ultima altri simboli in effetto non avevo visto adesso dovrebbe aprire questa specie di campana eh, infatti si è aperta lì ehi 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 sembra che la gondola è lavorata ehi ehi che figo dovevo grappare i gufi si però non si controlla nei gufi no però più o meno stanno andando in la direzione giusta oh sì vai scendi 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 ma sta carcaruglia sta testugine qua ok ok io sono arrivato qua ah qua bisogna girarle in giù che è una specie di teleférico che è una specie di teleférico io 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 ehi qui qui è è qui perché non sto a parlare e si sta sbitti sola un po' ma cosa succede con i gufi a casa? oh ho scendato sono i miei presenti l'anno l'anno ah è la discoteca delle montagne quella con i quindicenni che ballano era un po' questo è il ritmo della nuova questa è lo ritmo della nuova desse FBI a avvisità se vede qua bello ho preso il cappello di uno pure io ero infilato dai c'è seguito into the cavern ok speed ah a cosa? vieni slittino? ah bisogna una spugnetta ma perchè il mio impegno? non lo so devo impegnarti io me lo devo fare questo è wipe out ah questo cosa si aveva chato oh hey oh 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 in the belly of the beast che stai sta roba oh 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 no oh no questo è stato troppo pescivista adesso c'è il boss è una del boss dici? può essere può essere può essere che io dico il boss o il libro? o te l'ho detto che ieri ho finito super mario odyssey su switch addirittura il mio primo gioco di mario finito proprio della vita minchia ho mai finito un gioco di mario in vita mia ma non era lunghissimo o gli hai dato giù? gli ho dato un po' giù ma oggettivamente è abbastanza corto dopo chiaramente c'è tutto l'end game da fa' da sbloccarmi delle robe ah ecco questo giustamente però i titoli decoda l'ho visto diciamo ma mi è piaciuto anche perchè l'ho giocata in modalità super easy quindi praticamente sono otto tre volte in tutto il gioco ah vabbè ma va bene ma tu l'ho giocato così cioè deve essere proprio una roba spensionata se ne toglie il buon rumore pure Mario penso che posso smettere di videogiocare ma dove vale sto coglione? perché c'è l'acqua? uff sembra caldo non mi faccio bene nel cuore cioè devo andare sott'acqua c'è un muro sul sottomarino in mezzo alla nera niente c'è la nuota verso l'alto nuota verso il basso lo scappo bene c'è l'ossigeno no? come no? allora non sembra no pure sott'acqua le calamite della stala che cosa è questa macchina? credo che è giù sotto l'alto uff ci sono già entrati dentro lo blocco essurizzato è enorme non ci vediamo dei belli pallettoni metallici ma invece ieri ho avuto da un'altra chance a ritorno mamma mia quelle rari sei finita subito si ma cosa c'è alle questioni? oh great dei pistilli al posto del naso cosa sono fatti? il diavolo è riuscito creature da ultimo ma io ho avuto da questo per riparare le loro carabelle ah 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 ma di cosa ancora? ti vedete questi generatori qua? ripararele e il dolore dolore avrà avuto eh vedo ok quindi non mi dice ci siamo solo portati il dolore nella nostra relazione ovviamente senza dolore la nostra relazione uccidere sì solo portati un dolore e poi finiremo il divorzio la dolore viene in molte forme ma ma quando è la prima volta che ti ringrazaste a Cody per prendere tutto in casa ah 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 e quando hai hai dimostrato a me per lavorare per lavorare per aiutare la famiglia ah 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 esse è che i soliti dei Minions sì come which sono degli esseri abominevoli eh qui da chiaramente ah ok si torna sull'acqua quindi ehm usare queste robe per fiondacce tipo qui adesso adesso ho messo un altro tipo qui no aspetta cos'hai fatto? ho finito dentro un'altra bolla lì dentro bravo ah no ci sei anche te però qua non c'è un cazzo da qua non dobbiamo uscire no bisogna uscire qua si esce da qua che sembra che c'è il vetro ma in realtà non c'è no no è acqua con un'attenzione speciale del mio ah ci sono dei pallettoni che si possono... si si servono per fare effetto catapult capito? io l'ho capita così ma mi sa che li dovevo mettere da qualche parte questi pallettoni innanzitutto testo il generatore lo vedi? io non lo vedo no sono delle specie di boe il tipo ha detto che dobbiamo riattivare la cosa delle caramelle ma... proviamo un po' a esplorare per travervi una cosa ove sono tornato fuori? pure io sono passato di sopra ma poi sono ritornato giù adesso so le profondità di sali... attenzione ho trovato una valvola ho trovato una valvola la valvola come in spagnia aspetta la tiro io dove la giravo? non sa che la dovemmo montare da qualche parte per poi ruotarla ah ma questa si è sposta ok la dobbiamo montare in alto e infilarla da qualche parte ah ce l'ha vedi c'è la vita, c'è la vita finiti dove c'è quel pescione enorme non ho capito come ce la infileremo lassù eh aspetta che a me mi sto sganciando ah devi nuotare verso l'alto perchè quando io la favo a affilarla lì adesso però che a un certo punto sei agganci da sola di là su e per la e per la e per la dobbiamo girare intenzio orario o antiorario ok di qua non gira quindi sarà di là no si si oh oh ma si è smongolato ah no abbiamo mandato giù la vita eh ho mandato giù la vita e questo attrezzo ce lo dovemmo portare in giro fino alle altre viti eh crede proprio che sia che la ce n'è un'altra credo ce ne siano un'altra usa pure il dash no? usa il dash così lo conosci eh si I think I just lost a few years there ho perso la vite no no ce l'hai devi solo nuotare la direzione stiamo nuotando le direzioni opposte ok andiamo con la vite là con la vite là con la vite là con la dove stai venendo quanta ce ne so no perchè non sapevo che ce n'è un'altra dire ah io e nel crescere cioè almeno questo è l'alto lì l'alto lì voilà l'alto lì è una lì è una è una è una è lì è una Ok, niente, muori e ricompari, però ricompari un po' lontanino, per te che sta tornando, ok, vai vai deciso verso la vite, deciso verso la vite, e su, per te la torre, forse a gancho, non posso, ok, ok, Sì, adesso mi sa che si incazza l'uccio. Ah, ma è solo uno dei tre tubi! Perfetto. Ehi, sta lavorando! Guarda questo canto! Oh, è buono! Ma la notizia è che non ci dovevamo portare dietro sta mara d'anni. No, no. Ho occhio che c'è il buccio che c'è sta alle palcai. Quindi dovevo andare da cima dove c'era il generatore così capire quel cazzo. Un altro dove va. Che sarebbe questo? Questo è il generatore. E' uno, sì. Ed è attivato, no? Questo è attivato. C'è il colore che svolgeva. Sì, c'è uno per lo schifo che fluisce. Per lo schifo che fluisce. Però io avevo visto tre tubi. Allora, segui poi. Secondo me è ok. Per lo schifo che fluisce. Questo attrezzo non mi tocca portarlo più. Eccoci. Ok, noi avevamo fatto quello centrale. Dai, adesso potevo andare a destra o sì. Dov'hai? E' uguale. Ah no, l'è qua. Ah no, l'è qua. Ok, qua si sgrappa da fuori. Ok, c'è una rotaglia. E' andato sulla rotaia? Si. Poi ti ributta dentro. E poi qua c'è sta affare. Che è scollegato, bisogna fare questa specie di... C'è un giunto. C'è un giunto. C'è un giunto da tirassù. C'è una specie di lamella. Ah, se te lo tiri su io ci posso entra dentro. Aspetta, aspetta, tiralo su. Ok. Ok, aspetta, aspetta, lascia. Ok. Oh! Oh, I can see the generator! It's on the autos inside! Cos'è io l'abbiamo più lì? Il generator? Oh! That's pretty buff! E ti sciogli. Quindi non è lì che devi andare. No, beh, sì, vedi, devo andare dall'altra parte. C'è la... Il bugo è là, però devo solo capire come ci si arriva. Non vorrei che devo... No, quella non mi tiene. E ti tieni... Quindi? Aspetta, c'è qualcos'altro su in cima? Devo venire giù ad aiutare, ti devo far girare a sta passerello. Ecco sì, guarda. Però speri così non riesco a metterci invece. Riesci a metterla giù? Tipo se la tiri indietro? Ecco, ecco, ecco. Gira un po' più a sinistra... Un po' più a sinistra... Un po' più a sinistra ancora. Aspetta, lascio che ti lascio così. Ok. Ok, adesso me la dico. E' in girata la riva lassù. E che cazzo fa questa cosa? Adesso la devo andare bene. Ah, penso. Ah ok, quindi perlomeno è stabile. Eh, ma non è che c'è l'aria lì? Cosa devo fare? Te la devo fare salì? Eh, perché vedi, secondo me dovrei arrivare lassù. No, me la devi far girà. Me la devi far girà e un po' alza. Ok, farlo girare, farlo girare. Eh, ma qui è finito. Non ci posso andare più. Aspetta, aspetta. Devo andare ad andare qua. Ok. Ok. Ok, basta. Cioè, adesso riesci a alzare me. Ok, basta, 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 basta. Ok, sono passato di qua. Adesso ci sono dei bottoncioni. Ok, fatto. Anche questo fluisce. Rivellone. Seguimo il terzo tubo. Aspetta che io mi sa che non riesco a uscire. Ah, forse sì. Aspetta, forse sì, c'è la scoccia paia per uscire. Ok. Ok. e poi c'è la scoccia paia per uscire. Ok. 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 Devo seguire così o dall'altro senso? Ok, dall'altro senso. C'è una specie di colipone per aprire un pottello, maniglia blu per te. Aspetta, questo lo sta allontanando dall'altra parte. Oh, questo è chiaro. Si, prosegue a spugarsi il 21. C'è un ventolone. Guarda gli occhi! Mi sa che ti spalmerà se non lo prendi giustamente. Ok, così. Mi ha preso subito la lama? Si, esatto. Ok, hai due? No, anche il centrale è un po' sposto. Mi stai a piantino di pista. Allora, sono morto anch'io. No, io non gliela fa passare. Eh, perché l'ultimo te li succhia. Che cazzo? No, io non gliela fa passare. No, io non gliela fa passare. Cos'è lo swim up e lo swim down? Ah, ok. Per tenete subordi. Ok. No, dopo 8 morti, ok. Dopo 8 morti, te grazie. O forse mi sa che basta. Perché io sono arrivato dall'altra parte. Ok, adesso qua, dove se va? Vedo delle calamite rosse. Eh, si, se la... dovrà passare la merda. Nooo. Se caschi in acqua, sei spacciato? No, però devi ricominciare. Perciò qui li fa quello che io prima ho fatto. Ah, no, te lo lo devi fare, te lo lo devi fare. Perfetto. Eh, te lo devi fare. Devi... Adesso ti tienete sulla sinistra, perché sulla destra non ci puoi andare. Sulla sinistra invece sì, perché hai le tue calamite rosse che preggiate, che fanno già un po'. Ok. 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 Optimum. Quindi faccio il ponte. Ok, faccio un altro ponte. Ok, faccio un altro ponte. Oh, 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 oh. Cosa è questa macchina? Ah, che vuoi? Ah, che vuoi? Non me lo prendi a quel rampino là. Ok. Ok. Ah, ci sono delle colonne d'acqua. Un po' più che in cima c'è una ventola. Cioè sotto c'è una ventola qua. Ti devi far sparare col destra. Ah, ok. Ok, ho capito. Devi andare abbastanza in alto. Poi fai una super mega desciata. Ok. Quindi è del rapido. No, troppo in alto. Troppo nel vuoto. Io penso, continuo a pensare a se io e Lucia fossimo arrivati di un punto del genere, proprio quante fatiche e quante relationship che potevano essere andate a merda per giocare a sto gioco. Come cazzo c'è di pensare? Beh, però dai, il libro dice che salvavi il matrimonio. Che, certo. Non che spuntaravi tutto. Oh, spero io sto tornando indietro. Ma quello lì non è il ventolone di prima? No. Ok, scusate. Quello è il ventolone che ci devi passare attraverso questi affari. Ok, allora so tornare indietro. Ok, ecco. Boom. 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 Oh! What the fuck? Oh! Oh! Come andi, guardiamoci. All right, lasciamociare. Ok, ok, ok Per trovarsi dove bisogna andare da qua Ok, la ventolina che devo fare? Passaccio e mezzo, no? Ok, sali, sali, sali Ok, sali, sali Io sono qua Altra ventolina No No Vabbè, anche tu vai sul cazzo E con l'antermile vai sul cazzo Eh, sali qui Chi ne sa che qua servi te, io non posso fare il cazzo Ok E se tacca lì, sì No, perfetto, perché per me non ci facevano fare il cazzo No, me lo spinge Ok, dovremmo spingere uno per uno Ma fa qualcosa sta roba? Boh, c'è dei pistoni che vanno su Sì Ah, mi sa che avremmo riattivato il testo Sì, sì No Ma sta sweetness Qui c'è un ancorata Anche cazzo Eccolo Ah, l'altro L'altro manicotto da giro Come ci arriviamo, giù? Eh, eh, mi sa che... No, aspetta stava andando Ah, vedi, c'è il simbolino Oh, si pattina O molte Oh, no Moltissimo Eccolo Prigodone Prigodone Ma sei arrivato Ok Ok Ehi! Sono succhiati da questo tubone Ma questo boss tra l'altro non avevo idea di chi sia Che non si è mai fatto vedere fino a... Saliamo su questa toretta Sì, è fantastico! Ho un ciclato bruttamente Perché a te te va più grosso? Anche te sei più grasso Non lo so Tanto sprintano, sprinta, dasha, non dasha Cody, aspetta che sta piano infarto Che chi non gira più? Ok No, quello verde è mio Ah, il faro Ah, questo è il famoso faro Ah, lascia di essere l'aria Uh, vabbè! Vabbè! Perfetto! Ho odiato di più un muro dell'orologio Sì, che però è bellissimo Cioè, come design quel muro è bellissimo Qui c'era molto Bello proprio Sì, questo è più... È più... È più platform E adesso arriva il libro S'arriva il libro e ci spiega Ok Sdonna di Campiglio Sì 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 Non mi ricordi. Magari che se abbiamo soldato la casa, tu mi ti farai di parte di Waterland. Si, è un'idea grande. Ha! Ha stato infatti insieme all'al revendereci alla luce. E io l'ho ancora con la mia volta! Si, ti farai più volte! Mado le divertimento! Si, sì, madole le divertimento. Ok, che dov'è fare? Alla, vabbiamo giù Alla, vabbè, vabbè Cioè? Cosa vuoi fare? Niente, sto andando veloci come la merda C'è tutta una serie di trampolini che stanno mancando Una beccanya Daia, trampolini Sono arrivati. Ah, è bello di aver guardato! Sì, quando hai avuto questo busto? Oh, come spiego! Guarda questa roba! In maniera! No, aspetta! Eh, tranquilli, adesso lo scongeleremo subito facendo questa cosa qua. Questo è un Sasquatch! Ah, è uno dei tuoi affari col naso a pisello? Ah, si può tirare! Vedete? Vedete? Se sali di qua... Ah, questo rimane così, diavolerio? Sì, ma qua pensavo si potesse fare il wall jump, invece no. Non si vuol già. Eh, no. Guarda, viene qua. Questo lo dovevamo... Qua lo dovevamo buttare sul bottone. No, lo dovevamo buttare sul bottone. No, lo dovevamo vicino al bottone. In modo che... Vedete, c'è Fion lì sopra, vai! Dami qui c'è sopra. Ah, no. Ah, no, aspetta per poi. Ok. Adesso io ti riporto da là. Sei sicuro che la fai? Sì. Sì. Eh, vai pascio, eh? E sali, no? Allora... Allora... Non riesce a salire adesso. Aspetta, puoi salire dove? Guardate, andate l'intorno, dove cazzo... Eh, ne riescono a parte. Ne riescono a parte, infatti. Cioè, qui come se ci fosse... In più io mi sono vincitato nel nulla. Guarda, scendete un attimo da lì e allontana me sto diavolerio dalla parete perché mi sei sempre stato. No, tira, tira, tira. Non te lo tira? Ah, no. No. Come non ti? Eh, no, perché quella lì è una calamità rossa. Io dico la rossa. Almeno un tira, me lo spingi. Ah, ok, sì, sì, sì. E qui... Ah, no, aspetta, ci sono dei rampini qua. Dove? Qua, sopra. Sopra di noi. Ah, ok, sì. Quindi dovevo usare questo per andare sui rampini. C'era un rampino per cui non resta a fare. Ok. Portami là. Ancora un po' di più. Ancora un po' di più. Non lo so. Ok. Ok. Non lo so, c'è un simbolo tipo di rompi. Ok. Ok. Ne sa che... io la fai a usare sta roba... No. E sai perché? Perché mi sono vinciato! Un'altra volta? Ma sto cazzo a bubolo mi viene sempre rosso. Eh, devo tornare giù? Vai, beh, capisci prima cosa bisogna fare. Eh, c'è una rotaia qua. Non lo so, c'è una rotaia che... Vai, vai sulla rotaia, vai un attimo sulla rotaia. Vai sulla rotaia. Ok. E qui ti serve? Poi qua c'è una calamita blu. E qua devi venire su te perché qua c'è la blu. No, ma che quello che serve per farci sparare a te? Ah, no, te te spari per la russa. No, è la blu e sparo a te. Io mi sparo pure la russa. Niente, devo venire giù a sglicciarte da coso. non è possibile devo essere incastrato sotto il piede capito ok, vieni qua ma non serve un cazzo se arrivi con quella palla no, no, serviva per arrivare a palla no, perchè qua c'era tipo una nastra di ghiaccio che ho rotto io, se no non te noia questa è la rotaia ok, te ti devi far sparare lì, messa in alto ah, io faccio tranquillo da non poter prendere così io te lo posso muovere questo no, così me lo stai allontanato lo posso spostarselo qui ok, adesso portalo laggiù ok devi beccare quell'altro insomma ma quell'altro non lo... ah ok no, non lo vedo neanche quell'altro aspetta, aspetta, rimane lì ti vado da vicino a quell'altro eh, apposta non lo so ok, perlomeno lo vedo ok, apposta lo laggiù ok... 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 qui sei cazzo ricordati di saltare ah la fine è fatta questa città c'è tipo zanne di mammut tipo praticamente non mancare bandierine se no non c'è abbastanza momentum li vedo un po' mago è c'è un po' mago non 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 Oh, guarda! Un'altra parte! Chi siamo? Ok, sporta! Che cosa bisogna fare? Niente, dobbiamo tirare messa tutti e due. Ecco qua! Chissà se alla fine il boss finale del gioco è lui! Che cosa newa può essere portato! Oh, guarda! Ci stiamo? Non ci, ma la tua relazione! Tu vuoi dire relazione? Con una pia? No! Relazione! Relazione! Come si, come caca! Tu devi rilassare la relazione! Siamo una relazione! Ok, Mr. Crazy... Ah, i nostri relazioni già scoppi, ricordi? Quando qualcosa colapsa, qualcosa di nuovo può essere construito! E poi, la attrazione può crescere freely, sai? Oh no! Oh no! Oh no! Let's break it, baby! Come on! Oh no! 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 Tanto più interessante! C'è il momento armaghetto! Ok, non si va di qua! No si va? Ok, si va di là! Non si arrivo? Non è fatta arrivare? Eh... Oh! Ah! 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 Qua cominciano le bandierine! Oh no! Oh no! Ah beh, io penso solo bezz! Oh no! Oh no! Oh no! Oh no! No, 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 ho finito le bandierine, a mo' come cazzo? Ah, non è essere preso, bene. Ho spaccato tutto, è diventato nero da me. No. Cazzo. Lui sei. Io non sei più lo stesso. Perché alla fine di questo c'è tipo un bugo che te entri dentro e poi me ne è diventato nero. Ne sa che devi finirlo e poi... Ecco, vedi, dice quel bugo lì. Ci so. Oh! 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 è arrivato! Buon lavoro con il magneto! Puoi farvi? Sì, sono un po' di città Non, il tuo attaccione ha cresciuto più forte! Guarda! Vedete? Utilizzate il attaccione per arrivare al top di un montaggio! oh no! non me lo dico! sembra che dovevamo rimanere uno di qua, uno della parete di vetro però lo faremo dopo! oh ti posso monta sopra ah la c'è un coso, che colore è? ah il blu mi pare ok è stato del successo ma è successo vedete se è attaccato a me, io mi sono attaccato al blu e adesso mi sa come non va di là come fai? aspetta, prova a montare te su di me no aspetta, te ti puoi far sbalzare da quella lì no? eh ma te monta su di me però mi sa che se io monto su di te te non ti puoi far sbalzare a parte che io non so capace a monta su di te piacere due vicino a me, non ti fa il cazzo? è che mi pia quella calamita la blu no a te, fate sbalzare no? eh ma? fate sbalzare da quella lì poi quando te sei da lì io pio a te, ecco aspetta lì no bello vai ok ecco adesso faccio io ok quindi qua qui dovevo fare quello di prima no però non so se si è non fa contemporaneamente no vabbè no vabbè vabbè ti senti questo? la storia è venuta sì dovremmo stare vicini a un altro sì sì so mantenete il tuo magneto pronto oh posso sentirvi veramente sentire il magneto escemente per te ah adesso sarà il vento immagino dove c'è la torre ah Great abbiamo solo profondo questa scala eh serve per agganciarvi ti potete dovreste agganciare lì non ti lascia lì Ah, te agganciate a quella... alla X, che è russa. Ah, non ti si aggancia, ti aggancia? Sì, lo dobbiamo spiegare uguale. Sì, lo sento! Non puoi fare questo, Kody, guarda! Siamo facciamo attraverso questo! Tira, 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 tira... Ah, ok! Ok, adesso... Adesso vai te! Tiene premuto e in avanti anche, no? Eh, ma a me si aggancia a te! No, non devi guardare a me e li mirassi quelli! Eh, ma non me l'ammirava! Vai, riprova! Non so che cazzo sia successo... Ok... Ok... Spieghi in avanti, eh, se non va! Beh, io sto spiegando avanti! Vabbè, vabbè, mi puro! Devi aspettare che passi la sventata... Ok, prossimo! La prossima è che cazzo? C'è una rossa qua su... Ah, ma no! Proviamo a farla più! Oh! Erika! Ah! Fight it together! Ok, va avanti te! Ok, va avanti, se non ho messo che c'è ok, viene! No, potrebbe essere... No, c'è un'altra! Più! Vabbè... Ah, qui sono... Siamo riparati dal muro qua! Ah, c'è un'accomarcia! Ok, non so cosa fai... Per passare qua! Ah, ok! Aspetta che passa... Le graffole là... Le passa... Le graffole là... ще vi lu understood! Deti piccolo力! ! Attacate, attaccati! Adesso, l'imposo! Ok? Passare... Dovremmo passare dovervi mondare qua? Aspetta, ioミ posso far sbazzar sull'altro attrezzo? Ok... ok percibiamo 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 ok percibiamo no mi sa che non ci dovevamo attaccato dovevamo andate con l'altro cerchio mi sa che adesso qua dov'è ah lei vedi là c'è una mi sa che dovevamo andare giù cioè non dovevamo andare contro vento là c'è una X eh attaccate 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 me passerà eh spostate verso sinistra finché non sei coperto dalla voce ah ok quindi adesso questi non passano più ok è qui la stessa roba forse sto giro mi rompa io ma c'è la cosa no 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 ah ed è uno blu è sempre quello blu eh ma quello blu non è quello del primo quello del primo eh mi fai deciso non del cazzo dovevamo eh forse è su no adesso non si va eh dai attaccate su quello blu non sarà quello blu no no aspetta ah cazzo aspetta fammi da prima mission a me targetta a te ti tieni? si si è quello di prima si però è quello di prima aspetta non lo pia io mi sposto di qua e quello di prima quindi ah no aspetta forse ho capito eh attorno a quassù o more facendolo come usa la rete? no aspetta io torno dall'altra parte perché io posso farlo ecco tutto il giro dovevamo farlo beh e finire assunse e finire sulla rete o finire in mezzo no in mezzo in mezzo ah 3 2 al 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 3 1 2 3 ecco ecco ah forse ci ci levano queste calamite? interessante a caccia ah 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 unghetto eh quant'è che stiamo spippottando? ah ah oh ah ah ci siamo sì un'ora in mezzo 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 Sì, le mie orecchie sono appassionate. Oh, no? Stai da su, è l'ascensore cos'è? Oh, sì, pare l'ascensore. C'è, cosa? Ma... Guarda! Wow! Guarda, è così... Saurora! Oddio, che si sia! Nella ionosfera! Ora vedo perché questo libro ha sentito qui. Sì. Questo è dove ho proposto. E' stato... E' stato molto nervoso. Sì. E' stato quello che ha fatto speciale. Sì? Sì. Sì. Eh, magari c'era un altro pezzo di letterina. Eh, magari c'era un altro pezzo di letterina. Sì. La, 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 la. Hello. Quei un momento bello che hai fatto. Stai facendo un grande progetto. Abbiamo ancora di lavoro da fare, però. Siete pronti? Siamo iniziando! Sì. Sì. Siamo sfangata così senza boss. Pare di sì. Parrebbe Adesso spaccherà la palla Io la sembra un po' Gollum Con le sue mani tozze Eh sì Eh c'è anche le unghie magnate Che famo? La chiudiamo? Ma che questa? Ah perché noi stiamo ancora tra i pezzi dei Sì ne mancano Sì secondo me questo è finito Due cioè capitolo sei e capitolo sette C'è tutto Oh che prendo quasi Nel senso in generale Che prendi facile Ah se non lo leva Vedo quanto è lungo il capitolo sei No non gliela fa Basta l'aria fatto di sette Che mi pare che No tutto no Magari però mi fa No no tutto no Che sono lucchettati sul divano Sì vedete Questo è il motivo che non possiamo vivere insieme Sì vedete E' il motivo che ho perduto Sì vedo Ma non lo so Ma non lo ha fatto per la tua relazione Gordi È il tempo Di awicurare La passione Il capitolo sei e dei garden Che c'è una prima sezione e poi c'è subito un boss Se voi arriviamo al boss Eh se voi Ok questo mi pare molto garden Guarda è il mio garden Tutto è cresciuto No Cody It's you who shrank Oh yeah But everything still looks Beautiful Il boss è il burro verro Con lo scavatore E' il salato che sarà Oh really Painstaking groundwork Look at this Come on What is that I didn't plant that What is it Use your head And you will understand Soon enough My head Yeah Oh 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 Cioè io c'ho sta skill del ciuffo Col bergerame Non ho capito perché le armi le dà a me sopra la donna Cioè c'è anche il falcetto Sì Io ce l'ho Questo Questo Ah io c'ho sta specie di frusta che non so cosa faccia Ah che c'è tipo lo schizzetto Ah ok poi io posso tirare giù quello Marcisce Io che ce l'ho mi piace di fare Chissà che io? Ma io ci devo rompere questo Io che ci devo fare? Devo rompere questo? Mi sa che questo lo devi... ah, prima lo devi annaffiare? Boh, no, sto a provare perchè... ah no, scusa, devo spalzionare in modo che esplode Scisci tutto... qui devo annaffiare No, aspetta, qua spero stesso Vieni, vieni un attimo E' proprio il copio lì No, forse è questo, si Ops, non so cosa... Ah, sei saluto con un soccione Ok, poi sono morto nella merda Sì, questo è incredibile Ma solo con te l'ho fatto, e tu poi non ci vuoi Non puoi trasformare magicamente in una flower Perché qua c'è una roba da spaccare Ma sei sicuro che tu non riesci a farlo? Viu, ci devi saltare sopra e poi premere il tondo No, non me lo fa Non manco se premere il tondo per far... no? No, allora aspetta, tirami giù con la fionda tua e su in alto... no... lì Ah, ok Ehm, qui qua Oh, grazie Cody! La Adesso ci so Ok Ok Eccolo a fare Bello questo Bucolico Oh, oh, oh Oh... man, che è successo con la mia vera? Si sembra verrabile Cosa succede? Questo è ciò che succede quando hai uscito il tuo pagno Niente che mi rispondo che vabbè andato qui presto stasera con un masso di palata Pag. Pag. Allora, aspettano un secondo, aspettano un secondo. Non è troppo facile. Vai giù, vai giù, è super il giù. Sì, ma come si può prendere questo veloce? Deve essere davvero potente. Come si può salvare le guardie prima di morire? Perché non ce l'ha trovato un po' la cazzo. Che paga. Tanto dov'è esplorata qui, se c'è... Oh, qui si è fatto il giù, qui devo innaffiare. Innaffiare Cactus? Che secondo me... Ok. Ah, ok. Ah, io posso anche trasformarmi in piante? No, che sono flintraiatrice. E sparigli a culei? Sì. Guarda, vedi che dovete fai scherpare qua, eh? Oh, ci fai una meridiana. Mazzoli! Ah, che cazzo è però, i cetrioli. Quella che cosa è scarica? Sì. Non è davanti, eh? No, non davanti, se copri. Ah, credo che devi sfalcettare la giù. Le... Puoi sfalcettare le... Queste? Sì. 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 Non lo fate a distrugge naturalmente. Ah, eh. Perché mi sa che quell'altra era a limite a distrugge. Ok. Ah, ma c'è un'altra partita. Annaffia un po'. Adesso mi trasformo in un... Flop. Ok, cioè allungati e crea foglie. Crea foglie, crea foglie. Ah, se ne fai da ponte, praticamente. Eh, mi sa che però... Torno indietro, aspetta. Allora, vai, eh. Aspetta, aspetta. Eh, dove me butti? D'altra parte? Aspetta. Ah. Eh, teoricamente sì. Devo andare dall'altra parte. E qui c'è anche un raid. Eh, dopo è quello che devo chiedere io. Te adesso devi salì qua su di me. Ok. Vai. Ok. 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 Hmm. That looks thirsty. Il primo. No, guarda, forse è ok. No, sì. T'ho aperto il barco lì. Eh, no, però qua vedi, è ancora chiuso. Ma perché non arrivano da lì? E dove? E come ci arriva? Ah, ok. Mi devo ripiantà. Esatto, buttate no a destra. Alla sinistra c'è lì. Ma non gira. Non gira. Non gira. Come una turn, c'è scritto. Eh, no, vedi che gira... Gira, di là? Non solo di là. No, ecco. Ok, ma qua che devo fare? Ah, devo fare altro fogliano? Cioè, devo venire a piantare? Sì. Me le devi fare. Aspetta, che metto le foglie? Ah, ok. No, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, perché le dovevo mettere anche da qua. Ok. No, no more! Ok. E adesso? Cazzo qua. Cazzo qua. Cazzo qua. Cazzo qua adesso? No, la torni indietro, è inutile. Ma... Dovrestiii... Aspetta, non da parte. Te rimanano da parte. Te sei girato in tutto di qua. Io so girato tutto di qua, perché se no non potevo venire a piantare. Aspetta, aspetta, forse ci arrivo. Ah, devi andare là, devi andare là. O forse se no devi posizione, dai. Ah, ci sta, ci sta. Ok, adesso l'ho rotto dove c'era il rail. C'è una fantasia a questo gioco. Allora... Altro che pasticche e puglietti qua. Dai a the rail. Monta su. Teorizzati qua. Qui c'è la. Oh! Oh! Come. Mi aiutate? Questa. Questa è. Odessere qua... Allora, dobbiamo farlo tutto, certo? Quindi, spero sia così semplice. Eh. Ok. non capisco se sei aperto per me però no, ho tratto il cazzo per te, fine a te te una volta arrivato dall'altra parte non ti puoi ritrasformare eh perché poi c'è lo scalino non riesco a sapere ma se te adesso siete poi ritrasformando no, se mi ritrasformo, no perché io sono del vasetto qui c'è lo scalino non riesco a sapere forse c'è un'altra roba che si sbrega lì vedo c'è un innaffiatoio impiantato ho sbregato un baccello ma... boh, così così ah lì, aspetta, aspetta, c'è quello ah forse quello devo riuscire a piallo io qua dentro va, vedi se si riesce a piallo si perché ce n'è anche un altro qua, ok riesco allora adesso si, perfetto, viene qua e... rombola il baccello blu rombola il baccello grazie non si sa che pianta è però ok eccolo l'ha visto? sì, che era? non lo so oh, ci sembra abbastanza altissima ora è il tempo di rombola, Cody in una barrowe boh, io gli ho dovuto rifarciare guarda la mano, Cody ok ahia va bene va bene aspetta, aspetta vai, vai, va, innasciala, innasciala aspetta, siamo morti Cioè, se ne ferma? Vabbè, vieni anch'io, vieni! Ah, li posso meno anch'io, questi. Cioè, quando si alza su, io la posso intrappolata e io dovresti meno. Eh. Vieni da io. Ok. Sai, l'ai 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 l'ai. Vieni da io, vieni da io. Vieni da io, vieni da io. Ah, li ho. Ah, li ho. No mori, no mori. tu sei? si ok, vieno? no vieno, vieno vieno questo è il baltabone vai dove cavolo? adesso? che cazzo? non lo sa gli affari, un po' felici rimasta nessun colpo e ma noi non io me la iiii aspetti vieni fuori quelli riesco a affombolarli io a distanza guarda che... no c'è abbassato il piede non so cosa aveva abbassato visto che io stavo a meno alla pianta che era immobilizzata adesso aveva abbassato il minimo tutto a capo spero non so neanche un'uscita a piazza meraii meraii ecco gli attrezzi lì che gli stanno kill perchè quell'altro adesso li lascia adesso vai no non detto vai vinci ogni volta che va giù la massa sta troia non devo subire i punti ferita prima di te eh vabbè vedo 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 iscritti che ti so vedo vedo i partet è l'occasione di menaio porco dio del dio del dio del porco del dio non viano più fuori minion è meglio, non scelta lì menaio adesso lo spino no! dai! ah! 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 mezzavanti e 35 andiamo arriviamo al prossimo checkpoint non chiedemo si sta walking trespassing fogpond e affection e poi c'è un altro boss non so però senza il boss non so quando finisce il prossimo checkpoint non so tira giusta pianta tira giusta pianta tira giusta pianta e faccio un altro paio di avanzamenti non vedo dove c'è ok 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 questa è la cazzina però c'è questa cazzina il boss è un altro non so aspetta no non 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 chiesi Sì, è brutta quella morte. Ah, quella che è attaccato nella vera. Oh, Cody. È bello. Sì. Beh, non importa ora, tutto è infeczato. C'è ancora tempo, Cody. Uppi la infeczazione e facciare il tuo giardino di nuovo! Ok, Book, è vero. Come on, Mei, dobbiamo cercare questo. Oh, come on, allora!